Allora, buongiorno a tutti, io sono Bruno Marchesini, titolare del Picchio Bruno, sono onorato di ospitare questa bella manifestazione. Do il benvenuto a questa meravigliosa platea. L'anno scorso eravate assiapati lì, adesso ci sono davanti e anche dietro, questo mi fa solo che piacere. Voglio ringraziare la dottoressa Stefania Torresan, stata promotrice un po' insieme all'assessore del Consato di questa manifestazione, ringraziare anche l'assessore Katia De Monari, ma soprattutto tutta l'amministrazione comunale, in particolar modo vorrei ringraziare questo meraviglioso gruppo. Io li ho ascoltati l'anno scorso, un gruppo che è stato premiato a livello nazionale e internazionale, che certamente dà lustro a questo territorio. Guardate, questo è un anfiteatro di montagne, io sono particolarmente legato qui, perché un po' c'è la mia storia, sono cresciuto qui, ero bambino, poi ragazzo, e a me piace definire queste montagne, Novegno, il Giove, il Sumano un po' come le sentinelle di questo territorio, di questo polmone, tanto grato a tutti, tanto grato alla città di Schio, uno sfogo, un polmone verde veramente, che pochi comuni hanno e tanti comuni ci invidiano. Vedrete ogni tanto magari un piccolo drone che svolazza sopra, che fa delle rifrese. Il Foltoro è un ragazzino di 15 anni, si chiama Nico Valle, tra l'altro è stato anche premiato dall'amministrazione comunale per la realizzazione di due stupendi documentari sulla zona di Tretti. è un ragazzino dolcissimo, che si impegna molto e ama molto il territorio. Non mi dilungo, grazie della pazienza e buon ascolto a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti